ben trovati amici di le fonti tv è per me un grosso piacere essere con voi oggi per parlarvi di un nuovo format ed è questo la prima puntata nella quale vi racconteremo quali sono gli obiettivi di no haber tutte le voci della formazione allora prima di declinare tutti gli argomenti soprattutto prima di presentarvi quelli che sono i partner che saranno con noi in questo appuntamento mensile leggete subito in sovrimpressione il titolo di questa prima puntata lo voglio leggere insieme a voi perché qui si ritrovano alcuni concetti che davvero saranno quelli centrali digital talent training da collaboratore a cliente con l'empathy technology la parola tecnologia la conosciamo tutti sappiamo tutti qual è l'importanza della tecnologia soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo ma noi dobbiamo fare e lo faremo un passo in più dobbiamo salire un gradino in più e associare proprio al tema e al concetto della tecnologia altre parole importantissime come quella che ritroviamo sempre in questo titolo empatia due parole che apparentemente sono completamente diverse ma che devono essere combinate e poi tutto ruota intorno al concetto di formazione la formazione che è fondamentale questo format è in collaborazione con Revis e con me ho il piacere e la saluto subito di avere sindi martingrasso project manager di Revis SRL grazie per essere con noi grazie grazie a voi e soprattutto grazie per avviare questa importante collaborazione che ci dà modo di entrare nel dettaglio di un tema che è appunto fondamentale io continuo a sostenerlo ma insomma quando si parla di lavoro di business di relazione è fondamentale vogliamo raccontare insomma mi affido a te per spiegare ai nostri telespettatori di cosa si tratta il nostro no haber allora si tratta fondamentalmente di un facilitatore della comunicazione tra tutti gli attori della formazione noi amiamo definirlo un uno spazio digital quindi uno spazio ibrido tra la presenza fisica e la presenza digitale in cui i referenti delle risorse umane i responsabili della formazione e nello stesso tempo gli specialisti del training insieme a tutti i fruitori tutti coloro che beneficiano degli interventi formativi si possono incontrare e comunicare e confrontarsi tra di loro bene quindi ecco trovare uno spazio diverso più completo diciamo così no possiamo partire da qui esatto sarà costituito da puntate come quella di quest'oggi quindi una rubrica mensile che vedrà 10 appuntamenti oggi avremo il primo e dopodiché si sposterà nel nostro web che è una digital community su linkedin in cui approfondiremo diversi temi come possono essere la formazione finanziata la compliance normativa o la customer experience come faremo questo oggi certo ti chiedo questa cosa perché poi entriamo nel merito con un vero e proprio talk diciamo così un talk show una puntata che sarà davvero composta di più parti e quindi insomma è importante mettere ancora più attenzione in quella che è la formazione perché poi tra poco ne parleremo dei singoli individui esatto sì sì e bisogna trovare degli strumenti nuovi esatti degli strumenti nuovi noi parliamo infatti di talent training nell'eccezione di non solo cercare dei nuovi collaboratori da inserire all'interno delle aziende ma con l'idea che sia un investimento vero e proprio sulle capacità e sulle competenze non solo pratiche che bisogna inserire all'interno delle delle organizzazioni quindi investire su quello che è il capitale umano stiamo vivendo un periodo in cui la digital transformation con l'introduzione di strumenti come possono essere lo smart working per esempio stanno stanno prendendo il sopravvento e dunque diciamo che può essere vista in un'ottica un'ottica strategica sia per il miglioramento che per la business continuity poter valorizzare questi questi talenti per anni si sono utilizzati degli strumenti pratici come può essere l'assessment center quindi delle situazioni ad hoc in cui si cercano di sviluppare e di comprendere quelle che sono le capacità le competenze personali dei possibili candidati che si presentano agli HR e poter valutare poi se quello che esprimono in questi contesti può essere parallelo oppure compatibile con il job profile ad oggi invece noi pensiamo che bisogna optare su delle tecniche nuove e utilizzare l'empatia quindi l'empatia e l'utilizzo della tecnologia per poter andare oltre alla competenza pratica quindi a quella che può essere considerata un'attitudine una capacità individuale quella che è la soft skills di cui parliamo spesso e poterla così evidenziare per poter avere uno strumento strategico per poter mantenere queste aziende nell'arco del tempo e poter far veramente innovazione mettiamola così e poi andiamo appunto con il nostro talk bisogna intanto prendere coscienza di un mondo che è cambiato e la conoscenza ormai un po ce l'abbiamo tutti poi bisogna saper tradurre in pratica i concetti che conosciamo in più quello che c'è appena raccontato tu che poi il senso di questo format metterci un plus sempre un valore aggiunto riuscire a capire come far ad allargare ancora di più gli orizzonti assolutamente diciamo che in questo contesto attuale ad oggi in questa situazione emergenziale è obbligo diciamo che partiamo così poi sì noi ci troviamo per le conclusioni finali perché avremo più parti quindi è tutta una sorpresa ancora tutto da scoprire questo format e adesso appunto il nostro talk grazie dunque a sindy martin grasso che troveremo nell'ultima parte della puntata per le conclusioni finali ma adesso noi dobbiamo entrare ancora più nel dettaglio di ciò che vi abbiamo raccontato a partire proprio dalle parole chiave di questa prima puntata e lo faremo con due ospiti che vado subito a presentare saluto qui in studio con me alice melpignano amministratore delegato di neosvok e new experience company buongiorno alice bentrovata grazie per essere con noi e salutiamo in collegamento emanuele cerquaglia mighty e new experience company grazie per essere qui con noi grazie a voi allora noi dobbiamo parlare delle parole no che abbiamo già messo sul tavolo che sono centrali soprattutto in un periodo come questo prima però vorrei capire qualcosa di più del vostro gruppo perché da lì poi ci arriviamo davvero gradualmente e anche entreremo nel dettaglio a partire proprio dalla vostra mission da quello di cui vi occupate e da quello di cui siete voi proprio nel dettaglio certamente new experience rappresenta oggi una delle più importanti in realtà sul panorama nazionale ma direi anche internazionale nel settore dello sviluppo del software e della digital customer experience è un gruppo che sta crescendo molto che cresce molto rapidamente e questo non solo perché all'interno ritroviamo delle eccellenze perché c'è un forte know how e anche una visione pionieristica di quello che è la tecnologia e lo sviluppo di nuove soluzioni digitali ma anche perché abbiamo fatto del nostro approccio quello che è un vero e proprio mantra parliamo spesso dell'empathy in technology della capacità e della possibilità di rendere empatica la tecnologia ecco questo è il nostro obiettivo centrale ogni nostra attività ogni nostro progetto ogni soluzione il software che noi sviluppiamo ha come obiettivo centrale di sfondo direi quello di rendere empatica la tecnologia il che significa restituire a quella che è la macchina quella che è il software la componente umana perché di fatto quello che accade spesso nello sviluppo di soluzioni tecnologiche di soluzioni digitali è dare per scontato che dall'altra parte ci siano degli individui indifferenziati è quasi come se l'utente finale fosse composto sempre dalla stessa dalla stessa individuo dalla stessa persona che non ci fossero specificità ecco questo in realtà non è così in realtà ognuno di noi è un individuo diverso è un individuo che ha delle specificità che ha le sue caratteristiche quindi anche i suoi bisogni e che si interfaccia con le soluzioni digitali e tecnologiche sulla base di necessità e di obiettivi diversi certo quindi bisogna riuscire a recuperare che poi è il dilemma quello di base che quando si parla di tecnologia si pensa che sia qualcosa assolutamente di diametralmente opposto alla persona al capitale umano in realtà noi stiamo proprio cercando di non dimostrare ma di spiegare perché non è così in questa puntata le due cose possono andare di pari passo in realtà penso che debbano andare di pari passo che la verità sia che accanto all'intelligenza artificiale ci debba essere sempre l'intelligenza umana e la combo, la combinazione, la fusione di questi due elementi può davvero poi far la differenza sul prodotto e sull'esperienza digitale che ognuno di noi fruisce assolutamente perché poi ecco questo lo facciamo grazie ad un approccio olistico grazie alla capacità che abbiamo anche sviluppato nel corso del tempo di unire all'intelligenza artificiale quello che è oltre un secolo di studi umanistici quindi le nostre soluzioni si basano su anche quello che è il know-how che deriva dalla psicologia cognitiva dalla psicologia sociale, dal marketing e dalle scienze sociali quindi di fatto ogni nostra soluzione ha come elemento di base la derivazione la ricostruzione del profilo psicografico facciamo un uso della psicografia per ricostruire i tratti della personalità di ogni persona e questo perché sulla base di come ognuno di noi è fatto risponde diversamente a quello che è il comportamento digitale in primis ma poi soprattutto anche a quelli che sono i motivi per cui cerca un prodotto alle dinamiche di scelta di quel prodotto e anche l'identificazione di quello che è l'offerta, il prodotto, il servizio preferito ecco non a caso poi il trade union di questa trasmissione, di questo format è proprio tutte le voci della formazione quindi tutte le singole voci che ci portano a capire come l'evoluzione naturale delle cose ci mette di fronte anche a nuove sfide ma queste sfide non dobbiamo saperle proprio raccogliere e dobbiamo adeguarci in qualche modo io penso che la parola chiave sia personalizzazione certo e quindi solo attraverso la comprensione profonda di chi c'è dall'altra parte quindi proprio un'empatia vera e propria, il mettersi nei panni dell'altro si possa comprendere qual è l'aiuto che noi possiamo dare attraverso la nostra intelligenza anche attraverso l'intelligenza della macchina assolutamente, tutto quello che effettivamente tu hai detto ci aiuta ancora di più a entrare nei due concetti che ho detto poco fa sembrano quasi opposti anzi sembrano sempre opposti ma non lo sono tecnologia che appare come qualcosa di freddo e chiaramente invece la parte umana quindi l'empatia che è qualcosa di tutto tranne che freddo dobbiamo capire che cosa associa da che cosa vengono associate le due questioni allora io vado proprio da Emanuele per parlare di questo concetto cioè banalmente ti potrei chiedere che cosa c'entra l'empatia con la tecnologia è semplicemente l'effetto di quanto ci si è detto prima e di quanto si è detto negli ultimi anni negli ultimi anni è stata la tendenza a creare sempre più a trasformare i prodotti in servizi e la motivazione che stava sotto questo è che banalmente trovare nuovi clienti è di solito molto più complicato che gestire quelli che già si hanno per gestire quelli che già si hanno e devo creare una relazione con loro devo conoscerli devo avere una relazione quanto più intima possibile si parla di engagement quindi avere un cliente attivo che in certo modo si apre anche a me e mi permette di capire meglio quali sono i suoi bisogni quali sono i suoi bisogni espressi o non espressi creare dei servizi personalizzati cercare di essere il più possibile ripeto ancora in relazione con loro l'empatia è l'elemento fondamentale di una relazione umana di una relazione tra persone è la capacità di ascoltare è l'attenzione che si mette nella relazione con qualcuno si tratta solo di traslare questa attenzione questa capacità di ascolto in algoritmi in macchine in touch point digitali quindi utilizzare tutte le informazioni che ricevo dall'e-commerce piuttosto che dal mio prodotto direttamente che dal mio servizio che dalla macchina di produzione tutto quanto riesco a raccogliere provare a vederlo a analizzarlo con gli occhi con i nuovi occhiali dell'empatia cioè provare a estrarre attenzione e ascolto elementi di attenzione elementi di ascolto dalla massa di dati indistinti che posso recuperare dai vari sistemi ecco dove sta la chiave di lettura ovvero passando verso i servizi abbiamo una quantità di dati impressionante se riesco a far leva su questi per aumentare la capacità di ascolto che ho e l'attenzione che metto nella relazione continuo a usare queste parole perché poi sono le parole importanti la relazione che ho con il mio cliente allora diventerò un cliente più fedele sarà un cliente più contento sarà un cliente che mi accompagnerà e che io accompagnerò dando gli servizi sempre più utili a quello di cui le abbiamo assolutamente che poi mentre insomma Emanuele parlava faccio una battuta mettersi gli occhiali dell'empatia mi è piaciuta molto questa espressione fosse così facile riusciremmo tutti e qui ci ricolleghiamo così torno da te Alice al tema della formazione perché poi è intorno a questa parola che ruota tutto il ragionamento chiaramente con tutte anche delle variabili che si sono inserite in quest'ultimo periodo perché poi bisogna naturalmente guardare che cosa proviene da fuori come cambia il mondo del lavoro ma proprio anche delle relazioni perché di questo si tratta cioè sono due concetti che non possono essere assolutamente separati tu prima già ci accennavi ovviamente come trasportate questo concetto e questi concetti nel vostro lavoro però mi piacerebbe entrare ancora un po' più nel merito cioè come si declina nel vostro lavoro di tutti i giorni la declinazione è sicuramente quella di origine psicografica per cui cerchiamo di rispondere alla complessità che ormai la nostra società caratterizza attraverso quello che è uno studio profondo una comprensione profonda di fatto i dati quelli che vengono rappresentati come dati duri come dati hard i dati sociografici non sono più in grado di dirci davvero tutto di quello che sono le persone in questo caso le persone possono essere i clienti come possono essere anche i dipendenti per esempio di un'azienda quindi è fondamentale andare a ricostruire quelle che sono delle mappature di tipo psicologico di tipo psicografico in particolare usiamo dei modelli che vanno a ricostruire da una parte tutti i tratti della personalità che incidono in quello che è il comportamento e le scelte che vengono attuate dalle persone dall'altra parte per esempio nel caso specifico della formazione nel caso specifico del settore HR noi applichiamo spesso i modelli della voice of employee quindi della raccolta di feedback e la raccolta di informazioni da parte dei dipendenti o comunque delle risorse delle persone che sono all'interno di un'azienda uno dei modelli che dal nostro punto di vista in questo periodo è più dirimente è il modello di leadership che noi applichiamo al settore HR che parte da un presupposto e da un assunto cioè quello che la leadership non è solo una caratteristica del manager ma è una competenza quello che è una skill che deve essere approfondita sviluppata e portata avanti da parte di tutte le persone che compongono un'azienda ed è fondamentale perché questo aspetto non solo aiuta il clima interno non solo migliora le performance all'interno dei singoli team aziendali ma va anche a influire a influenzare positivamente quello che è il ruolo del cambiamento culturale della trasformazione culturale che c'è all'interno di ogni azienda quindi attraverso questo modello noi ricostruiamo la personalità tanto del manager quanto di quelli che sono le persone che stanno intorno al team andiamo a rilevare la predisposizione verso tecniche di influenza soft o hard e poi andiamo a rilevare anche un tratto che è il bisogno di chiusura cognitiva detto anche capacità di tollerare l'ambiguità che diventa dirimente in quello che è l'ambito lavorativo in cui bisogna prendere delle decisioni o bisogna comunque accettare delle condizioni delle scelte ecco tutto questo ovviamente ha come obiettivo finale quello di trasformare positivamente il clima all'interno di un team di identificare quelle che sono le persone che meglio possono comporre questo team di identificare anche quelle che possono essere delle potenziali criticità al fine di superarle attraverso l'applicazione di quelle che sono le tecniche migliori per quel tipo di team e l'applicazione anche di quello che è il codice comunicativo ideale certo ma infatti un'altra espressione che mi è piaciuta molto perché a me piace rimarcare i concetti è il ruolo cioè la leadership che deve essere associata a tutti i componenti di un team certo da cui parte poi dal centro dalla figura centrale però intorno alla quale ci sono delle persone che condividono ovviamente gli stessi obiettivi e che soprattutto devono far parte della stessa mentalità e devono avere la stessa mentalità quindi è anche un concetto correggimi se sbaglio più di responsabilità che viene assegnata a ciascuno compatibilmente con tutte le caratteristiche che vengono fatte emergere dai singoli individui è un concetto di responsabilità ed è anche un modo per rispettare le diversità assolutamente in base a come una persona è fatta caratterialmente ma anche alla predisposizione che ha rispetto al vivere l'ambiente lavorativo si può grazie a questo modello identificare la soluzione ottimale per far sì che quella persona tiri fuori il meglio di sé quindi gli stessi obiettivi ma con singole capacità e predisposizioni che chiaramente cambiano meno male che è così da individuo a individuo insomma in questo caso la varietà come in tanti aspetti della vita e del lavoro e del business è davvero il valore aggiunto altrimenti c'è tutto omologato e non si arricchisce anche il lavoro stesso che facciamo la domanda sorge spontanea Emanuele torno da te proprio continuando il ragionamento che stava facendo Alice cioè ci sono degli elementi quindi alla base dai quali non si può prescindere in tutto questo processo possiamo provare a riassumerli e metterli nuovamente sul tavolo insieme a te Allora noi possiamo negli ultimi anni si è lavorato tantissimo sui dati e hanno lavorato diciamo la parte vendita delle aziende quindi parlavano con i clienti cercavano di capire poi ci si è resi conto che le stesse identiche cose gli stessi concetti le frasi che ho usato prima parlavo di clienti se si sostituisce la parola employee alla parola customer funziona direttamente uguale l'altro giorno per curiosità sono andato a prendere la definizione le definizioni di smart manufacturing e se si sostituisce anche lì la parola cliente con la parola employee collega dipendente funzionano nello stesso modo nell'ambito HR in realtà abbiamo altre due ambiti importanti quindi non c'è solo la relazione quindi il capire che ho davanti il mettermi andare a raccogliere dati e capire meglio che relazione può avere la mia azienda con i suoi dipendenti i suoi manager i suoi collaboratori ma poi c'è anche tutti i processi aziendali cosa che ovviamente un cliente non ha e poi tutta la parte di formazione quindi giusto per fare degli esempi banali io posso anche avere la persona che naturalmente esprime più leadership di questa terra ma se la incasello male in un'azienda la metto a fare a fotocopiare fogli bianchi difficilmente riuscirà ad esprimerla sarà frustrata e probabilmente andrà a portare le sue capacità da un'altra parte posso anche formarla quanto voglio ma se la incasello male anche lì non riesco a cavare il bagno dal buco quindi in realtà all'interno di un'azienda devo riuscire a portare avanti processi aziendali formazione e relazione con le persone nella maniera più organica possibile quello che noi stiamo anche facendo oltre a riportare tutti i meccanismi di gestione del cliente di analisi del cliente riportarli sulle persone interne all'azienda stiamo anche provando a fare delle esperienze di process mining ovvero dai log delle macchine dei sistemi dati di bassissimo livello provare a estrarre quelli che sono i processi veri non quelli scritti sulla carta ma quelli veri reali dove magari si scopre che il controllo del credito è fatto utilizzando un excel che viene alimentato da una persona e che fa solo quello ma poi bisogna andare a capire se è contenta di questa cosa come mai è in quella condizione se magari non si possono trovare soluzioni alternative che possono essere buone per lei dal punto di vista professionale e di espressione di sé e anche magari meno rischiose di un'azienda che basa tutto sull'excel ma non c'è l'unico di una persona provate a fare un esempio banale banale però andando ad analizzare far analizzare a una macchina con l'algoritmo di intelligenza artificiale quelli che sono i processi reali si scoprono spesso tanti elementi che per carità magari sono scontati per chi lavora a quel livello ma non lo sono perché guarda l'azienda nel suo insieme sanno tutti che quella tal macchina di produzione viene attrezzata male in quel tal turno perché c'è quella persona ma questo non è scritto da nessuna parte misurarlo mi permette poi di attivare formazione engagement e tutto il resto per provare a migliorare la situazione produttiva in questo caso o la situazione della singola persona a migliorare la mia azienda per farla funzionare meglio ecco infatti come abbiamo iniziato questa puntata per avviarci a conclusioni Alice poi magari anche una battuta ancora da Emanuele sappiamo tutti che è importantissimo guardare osservare da vicino tutto ciò che il futuro ci sta portando dico che ci sta portando perché il futuro è adesso sarà retorico ma è così soprattutto in un momento in cui tutto è stato accelerato da situazioni esogene che noi magari non siamo riusciti subito a controllare però è il momento di riuscire a controllare adesso quindi dicevo la tecnologia sappiamo che è importante ma il passo ulteriore è proprio questo cioè io ho iniziato la puntata dicendo dobbiamo salire un gradino più in alto cioè capire come far diventare un tutt'uno tutti questi elementi quindi tecnologia va bene ma poi saperla sfruttare a seconda delle competenze singole cioè non deve essere un discorso assoluto e questo proprio permettetemi di dire di usare questa espressione è il primo insegnamento che poi non vuole essere un insegnamento ma un'indicazione che possiamo dare attraverso questa prima puntata è fondamentale è fondamentale veramente partire dal concetto di diversità e poi declinarlo attraverso le parole che abbiamo usato oggi personalizzazione attraverso l'empatia per farlo diventare fruibile e vicino a quello che sono le persone perché poi di persone si sta parlando è certo il capitale umano quindi non è vero che la tecnologia non può convivere con le persone anzi deve 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 diventare uno strumento assolutamente mi è anticipata e soprattutto è un qualcosa con cui tutti dobbiamo avere a che fare sempre nel modo migliore con l'utilizzo corretto Emanuele una battuta anche da parte tua proprio in conclusione prima di salutarti velocissimo l'amministratore delegato di Microsoft ha detto che abbiamo fatto il processo di digitalizzazione che avremmo fatto in due anni l'abbiamo fatto in due mesi causa Covid quindi a fronte di questo sforzo gigantesco che ha fatto l'umanità adesso abbiamo ancora più dati abbiamo ancora più informazioni abbiamo ancora più possibilità di implementare dei servizi degli strumenti che diano la capacità alle persone di instaurare relazioni all'interno dell'azienda a una scala con una scala quindi con una numerosità che non è mai stata possibile io fino all'altro giorno potevo immaginare empatia quindi una relazione tra me essere umano e un altro set di poche persone all'interno dell'azienda adesso posso immaginare che sia l'azienda stessa riuscire ad avere delle relazioni con le singole persone che siano relazioni attente che siano relazioni importanti vere il tutto ovviamente mediato dalla tecnologia perché è quello dove si andrà è l'ambito dove si andrà è l'ambito di gioco è il campo di gioco dove giocheremo tutti farlo bene riconoscendo che ogni persona è diversa riconoscendo le differenze riconoscendo le aspirazioni di ogni persona è una bella sfida assolutamente assolutamente questa è la sfida ripeto non del futuro ma del presente quello di essere sul pezzo ancora di più questa espressione è fondamentale ma anche a livello proprio istituzionale ci viene chiesto di essere al passo con i tempi ancora di più e sempre di più grazie intanto Alice Melpignano Emanuele Cerquaglia mi avete davvero aiutato e ci avete aiutato a capire dei punti fondamentali adesso però cambiamo scenario ma ascoltate con me e con noi le conclusioni della puntata e insomma facciamo un po' il punto rispetto a tutto quello che abbiamo detto oggi e naturalmente come abbiamo anticipato all'inizio di questa puntata per le conclusioni mi ritrovo con Sidney Martin Grasso Revis un dialogo davvero costruttivo importante quello della prima puntata allora le conclusioni quali potrebbero essere così diamo anche un messaggio ben preciso a tutti i nostri telespettatori certo io direi che ne approfitto per presentarvi il nostro hub vi aspetto sulla nostra digital community quindi a un gruppo dedicato su Linkedin in cui troverete una serie di approfondimenti sotto forma di discussioni dei documenti caricheremo magari dei webinar e sicuramente troveremo della formazione quindi vi aspettiamo sul nostro sul nostro gruppo Linkedin mi raccomando iscrivetevi e continueremo poi ad approfondire il tema con Neo Experience che darà la possibilità grazie ai nostri Abercamp quindi che sono degli appuntamenti one to one avere un confronto con chi fosse interessato ad approfondire il tema assolutamente io ovviamente mi sono già collegata alla pagina la prima cosa che ho fatto quando abbiamo parlato di questo format ma è semplicissimo insomma poi ne abbiamo parlato lungo tutta questa prima puntata della necessità di mettersi in relazione attraverso la tecnologia quindi anche a partire proprio dai social con tante altre persone che condividono che possano condividere con gli stessi obiettivi per cercare di arricchire quelle che sono le nostre conoscenze le nostre competenze quindi anch'io in prima persona vi invito insomma è semplicissimo lo sapete noabber linkedin collegatevi perché davvero da questo momento in avanti ci saranno tantissime novità oltre a ritrovarci poi come abbiamo già ripetuto una volta al mese sulle fonti tv per approfondire tutti questi temi grazie a Cindy Martin ti ingrasso grazie a Redis per questa importante collaborazione e al prossimo mese ci vediamo il 25 febbraio ecco così abbiamo già dato l'annuncio il 25 febbraio sempre qui sulle fonti tv con naturalmente i grandi protagonisti di questo nuovo format grazie per averci seguiti e alla prossima puntata grazie a tutti